Buonasera signore, che cosa prende? Guarda, una valutazione immobiliare, grazie. Con un senza mutuo? Con mutuo. Tasso variabile o tasso fisso? Tasso fisso, grazie. Abbiamo un tasso fisso per Armando! Allora, ecco a lei la sua valutazione. Oh, grazie. Buon appetito, grazie. Vi starete chiedendo che cos'è una valutazione per l'acquisto. Solitamente siamo abituati a vedere le valutazioni che i proprietari di casa chiedono per poter mettere l'immobile in vendita. Quando viene a vedere casa con me, ti do una valutazione per l'acquisto che contiene al suo interno delle informazioni sul circondario, sul quartiere che stai analizzando, sui servizi che troverai nella zona, su quali sono i rischi, onde elettromagnetiche, frane, allagamenti, la classe energetica che sta diventando sempre più importante analizzare, alcune caratteristiche dell'immobile in particolare, l'andamento del mercato in quella zona, l'andamento dei mutui negli ultimi 12 mesi, delle offerte, le tre migliori offerte di mutuo a tasso fisso, le tre migliori offerte di mutuo a tasso variabile, le tre migliori offerte per ogni utenza, internet, gas e luce, il costo dell'IMU annuale o del passaggio di proprietà, alcune recensioni su come io mi sono comportato con altri acquirenti, alcune spiegazioni e la planimetria di casa. Praticamente è uno strumento che ti aiuta a decidere. Mi raccomando, in ballo ci sono i tuoi soldi.